Io voglio sostenere la proposta di inoltrarla quantomeno le rispettive commissioni competenti sulla materia, compresa quella europea. Lo farò in un prossimo Consiglio Comunale perché ritengo che le condizioni veramente del Torrente Lavagna prima e del Fiume Intella dopo siano in questo momento inaccettabili. Sarà anche il Consiglio Comunale di Levi a portare in discussione, con l'intento questa volta di approvarla, la proposta di attenzionare l'Unione Europea sulla questione del prelievo forzoso di acqua da parte di Iren dal Torrente Lavagna, in località Piani di Coreglia, e la richiesta che venga garantito il livello minimo vitale del corso d'acqua. La pratica era stata bocciata nelle scorse settimane dalla maggioranza di San Colombano-Certenoli, ma questa non è l'unica amministrazione comunale ad aver aderito alla proposta. Tra gli altri soggetti ci sono appunto Levi, Coreglia Ligure, Carasco, Mezzanego e le associazioni Italia Nostra, FIMA Tiguglio, Fipsas, Associazione Pesca Sportiva, Val Fontana Buona, Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti. Ogni estate e in periodi siccitosi come quello che stiamo vivendo, la situazione è sotto gli occhi di tutti, il tratto del torrente a valle dei pozzi di captazione per gli acquedotti dopo i piani di Coreglia è in secca con conseguenze pesanti per agricoltura e fauna ittica. Non ci sono un minimo di sostegno idrico per poter consentire a quei pochi orti che sono rimasti, drammatico anche a questo aspetto, di sopravvivere e soprattutto poi anche da un punto di vista ittico. Tra le associazioni firmatarie del documento anche Italia Nostra. In questa direzione va la proposta di rivedere la collocazione del depuratore comprensoriale della colmata di Chiavari nell'entroterra presentata insieme a Lega Ambiente e lo stesso comune di Levi. Richiamiamo l'attenzione su quella che è proprio la gestione dell'acqua sia da quella che è appunto dalla presa rispetto a quello che è il torrente, la gestione stessa del torrente, la gestione delle acque e poi del ciclo finale non può arrivare in fondo e essere messa in mare e quindi il problema è da quantità di acqua arrivare a Chiavari è eccessiva. Quindi va gestita a monte piuttosto che con interventi diversi, cioè il fatto di fare interventi appunto in una zona centrale, baricentrica, come potrebbe essere quella dell'incrocio delle tre valli certamente riandrebbe comunque a creare il famoso minimo vitale.